C'è sempre la ricetta per rendere una giornata speciale. Momenti magici, in cui la cura per i dettagli diventa un'armonia di note, dolci e suavi. Carezze dall'aroma inconfondibile, da regalare a chi ci sta vicino. C'è sempre la ricetta per rendere una giornata speciale. La mia è Qualità Oro. Speciale dal 1956. Grazie a tutti.